Allora, Luciano D'Amico, lo sapete, insomma, docente all'Università di Terramo, ex rettore dell'Università di Terramo e nonché Torricellano, lui è originario di Torricella Peligna, mi piace sottolinearlo. Grazie per aver accettato l'invito, grazie anche al grandissimo scrittore Edoardo Albinato per essere qui con noi questa sera. Grazie Giovanna, grazie a te, grazie per l'invito, grazie soprattutto per aver organizzato anche quest'anno in modo, mi permetterei di dire, eccellente questa edizione del Festival. E naturalmente un ringraziamento a Edoardo Albinati per essere qui con noi questa sera. Edoardo Albinati lo conosciamo attraverso le sue opere, anzitutto autore di romanzi, oltre che di grande successo, anzi forse dire di grande successo è un po' riduttivo. Mi fa piacere ricordare tra questi la scuola cattolica che nel 2016 ha vinto il premio strega e poi impegnato anche in altre attività di grande rilievo, solo un piccolo cenno alle sue traduzioni, ha tradotto la tempesta di Shakespeare. Un impegno civile di straordinaria rilevanza, insegna dal 1994 a Rebibbia, nel 2002 è stato impegnato come volontario in una missione in Afghanistan, nel 2004 nel Chad. Direi che ci propone con grande generosità e grande, attraverso lo strumento di quest'ultimo romanzo, tutta la ricchezza delle sue esperienze. Il romanzo, entriamo subito nel merito, è bellissimo, straordinario, sono tre racconti. Sono tre racconti così belli che vanno letti anche solo per il loro contenuto fattuale. Sono racconti sulla cui trama farei un brevissimo cenno solo per poter poi rendere evidente come tutto si inquadri in un mosaico perfetto. Primo racconto, ragazzo A, un ragazzo problematico, tossicodipendente, detenuto, frequenta, anche lì frequenta le lezioni nella scuola del carcere. Succedono alcune cose a ragazzo A, non dirò naturalmente la fine di ciascun racconto, anche per evitare il piacere di poter arrivare, soprattutto per il secondo, ad un finale sorprendente e sorprendentemente bello. Il secondo racconto, invece, che narra delle vicissitudini di più protagonisti, il racconto più esteso, forse anche più ricco, più complesso come trama, più protagonisti che ruotano a partire da un padre cappuccino accusato probabilmente ingiustamente di aver molestato alcune donne del paese in cui risiede, in cui fa il sacerdote. Si uniscono altri personaggi, all'inizio un po' timidamente, ma poi acquisiscono dei ruoli centrali e questo padre cappuccino alla fine risulterà presumibilmente non colpevole delle molestie che gli vengono attribuite, ma soprattutto risulterà autore di una sorta di miracolo, di una guarigione miracolosa che dà corpo e completezza a tutto il racconto. E infine il terzo racconto. Il terzo racconto è un compositore, un musicista impegnato fortemente nel vivere in una solitudine molto ricercata durante tutto l'anno e che poi, immagino durante la festa del Redentore a Venezia in luglio, organizza appunto questa grande festa a cui partecipano molti amici, molte persone che provengono un po' da tutto il mondo. A questo compositore, a questo musicista succede una cosa abbastanza insolita, quando per partecipare al funerale di una sua zia sireica in Germania, a Brema, e lì succede appunto questa cosa insolita che scuote questa sua capacità di difendersi in una routine che giustifica anche questa sua situazione di grande solitudine. Ho fatto questi brevi cenni solo perché ci terrei ad evidenziare, a condividere con voi come personaggi così diversi, contesti, situazioni così diverse, poi, come accade in, mi permetterei di dire, in ciascuna opera d'arte che si rispetti, all'improvviso tutto si ricompone e soprattutto il lettore riesce a condividere non il destino dei singoli personaggi, ma a condividere le ansie, i problemi, le sensibilità che tutti i personaggi così diversi manifestano ciascuno a modo suo. Verrebbe da fare una citazione troppo facile, le famiglie felici sono tutte uguali, le famiglie infelici la sono ognuno a modo suo. In questo caso i personaggi, ognuno a modo suo, consentono al lettore di rivedere se stesso, di rivedere molte sfaccettature di se stesso, della sua vita, dei problemi che è chiamato quotidianamente ad affrontare. Sembrerebbe che i tre racconti siano soprattutto in grado di esporre problemi. In realtà compiono una sorta di piccolo miracolo gli stessi racconti perché poi propongono delle soluzioni e in qualche modo, a mio parere, rappresentano anche un po' un inno alla vita. E' un percorso però in complesso quello di arrivare a immaginare questo inno alla vita. E' un percorso complesso perché sin dall'inizio, dal primo racconto, un protagonista, un personaggio minore, decisamente minore, a cui Albinati dedica non più di tre pagine, e esprime un giudizio, il primo colpo che arriva dritto, il primo pugno sullo stomaco che arriva dritto al cuore, esprime un giudizio che in qualche modo è orientante. E dice, c'è qualcosa che non va in ciascuno di noi, non andiamo mai d'accordo con noi stessi. E io partirei per presentare, diciamo, il contenuto straordinario di un romanzo straordinario, di questi racconti straordinari, proprio da questa considerazione. Come possiamo iniziare a comprendere cosa non va in noi stessi? Domanda impegnativa, mi rendo conto. Allora, innanzitutto buonasera a tutti voi, grazie di questo invito. Mi inizierei ancora da un poco prima, cioè dalla citazione che tu hai voluto fare del famoso inizio di Anna Carienina. Mi colpisce questa coincidenza perché è il libro di cui lungamente ho parlato venendo qua in macchina con Lisa Ginsburg, cioè l'autrice che mi ha appena preceduto. Ebbene, io credo che quella frase, tanto suggestiva, sia falsa. O meglio, è molto bella ma non è vera, perché non è vero che le famiglie felici siano tutte uguali. Forse non è vero nemmeno che esistano famiglie interamente felici. C'è sempre qualcosa che, una crepa che si insinua, anzi direi che si insinua proprio laddove le persone sono molto vicine tra loro. Sono fratelli, sono sorelle, sono padri, figli, madri. Cioè quindi se c'è un luogo in cui serpeggia sempre l'inquietudine, è proprio la famiglia. E allo stesso modo potrei dire, per rispondere alla tua domanda, che questo anche avviene all'interno di ciascuna persona. Cioè noi siamo, abbiamo delle crepe dentro di noi che ci dividono da una parte di noi stessi che in qualche misura o non conosciamo affatto o conosciamo e vogliamo nascondere oppure invece che alterniamo con l'identità a cui siamo più legati. Esiste, cioè, me l'hanno spiegato una volta durante la presentazione di un libro che si chiama Un adulterio e io ero sempre stato convinto, un po' ingenuamente, che la parola adulterio e adultero volesse dire di, volesse indicare il movimento che uno fa andando verso un altro, in questo caso un altro partner rispetto a quello suo ufficiale, moglie o marito. Quando invece adultero può voler dire anche, e da qui il significato della parola adulterarsi, diventare o scoprire di essere altri da quello che si era, esattamente come si adultera un vino o un cibo che perde le sostanze e le qualità che aveva perché in realtà ne rivela altre sconosciute. Allora, in questi racconti, credo, in tutti quanti, i personaggi hanno più facce. Ad esempio, mi interessa quello che tu hai detto a proposito della tua ipotesi che il prete protagonista del secondo racconto sia in realtà innocente, ma io in realtà non mi pronuncio, francamente devo dire la verità, non essendo un racconto, un tribunale, non saprei dire se padre Alighiero sia veramente un molestatore seriale oppure no. E potrebbe anche darsi che possa essere contemporaneamente un santuomo, e cioè come questo paese in cui questo frate Cappuccino viveva, era considerato proprio come il profeta, il predicatore, l'uomo a cui tutti davano fiducia, possa essere anche contemporaneamente una persona malvagia, una persona perversa. Questo perché credo che nella vita, ma anche nella narrativa, i personaggi monolitici esistano soltanto nella satira, cioè quando tu fai la caricatura di un tipo umano e lo fai uguale dall'inizio alla fine, quando invece la narrazione in generale, la narrativa, il racconto è la scoperta di cose che non aspettavi, tu probabilmente non sapevi di essere capace di fare, quindi per esempio persone che si considerano vigliacchi o codardi, che scoprono invece di essere capaci di coraggio o al contrario persone che rivelano dei lati terribili che gli altri ignoravano. Quindi credo che sia una ricetta letteraria prima di tutto, ma che corrisponda abbastanza alla vita reale il fatto che ciascun personaggio abbia più facce, perché appunto le figurine, il cattivo e il buono vanno bene appunto per la satira, cioè laddove si prende un tipo umano e lo si, se ne fa una caricatura. Questo a proposito del secondo libro di cui parlavo con Lisa Ginsburg in macchina che è l'altro grande romanzo di Tolstoi, Guerra e pace. In Guerra e pace per esempio c'è un personaggio che è uno scrittore meno grande di Tolstoi avrebbe trattato in quel modo lì un cattivo, un classico cattivo, Dolochow si chiama, uno spadaccino, un seduttore, un uomo piuttosto repellente, che è egoista, violento. E poi Tolstoi ce lo mostra del tutto in modo imprevedibile mentre va a visitare la sua vecchia madre. e allora scopriamo che almeno in quel punto persino un infame come Dolochow che per tutto il resto del libro commetterà atti riprovevoli, però ha almeno un aspetto in cui si possa rivelare la sua umanità. Esattamente come in persone che sembrano che sono molto umane poi si possa scoprire che sono capaci invece di cose malvagie. Questo credo che non voglia dire che non c'è differenza tra il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato, ma vuol dire che bisogna fare un percorso per scoprire come veramente noi siamo. Questa è un po' la, forse ho dato una risposta un po' troppo lunga e elaborata alla tua domanda iniziale. Cioè per capire chi siamo dobbiamo metterci alla prova e allora scopriremo se siamo buoni o cattivi, malvaggi o generosi, se siamo soprattutto una cosa che forse è la cosa di cui io rimpiango di più la mancanza nella vita quotidiana e cioè di prove che ci facciano capire se abbiamo del coraggio e finché non veniamo messi alla prova di questo non lo sapremo e le occasioni di mostrare coraggio sono piuttosto rare. Io credo che la capacità anzi l'immediata immedesimazione che da lettore mi è sembrato di poter provare nei confronti un po' di tutti i personaggi sia proprio in questa poliedricità in questo scoprirsi attraverso i personaggi dei racconti scoprire i propri aspetti sia quelli più belli sia quelli diciamo meno belli questa continua lotta diciamo all'interno di ciascuno di noi ed è una lotta un altro elemento che accomuna un po' tutti i protagonisti dei racconti in cui ci si rivede facilmente è una lotta anche fra una continua ricerca di stabilità di costruire delle routine che possano sorreggere la vita quotidiana e questa costruzione di routine che però poi viene interrotta da fatti inaspettati il protagonista del terzo romanzo si preoccupava soltanto della stabilità ne era ossessionato non aspirava ad altro che garantirsi una forma di immota e perenne stabilità come un frutto uno strumento musicale in una natura morta il che per lui voleva dire mantenersi in salute e pensare sempre lo stesso peso indossare senza venire costretto ad amare riflessioni abiti comprati 15 anni prima ecco questa ricerca di stabilità come ricerca di routine come ricerca di abitudini per affrontare il quotidiano che poi viene interrotto un po' in tutti i romanzi da fatti imprevedibili e sono interruzioni che sembrerebbero dipendere da fatti esterni ma che in realtà e qui arrivo ad una seconda domanda in realtà aprono scenari inediti aprono soprattutto a delle soluzioni inediti e dei racconti che sembrano in qualche modo dominati dal pessimismo invece si aprono si aprono a grandi possibilità questi scenari appaiono subito ad esempio quando dici le medicine non servono mica a guarire ma a sperare di riuscirci e questa illusione che ci tiene su come a voler ricercare un ruolo in ciascuno di noi nel superare nello scegliere poi come vivere come valorizzare come migliorare i propri aspetti e poi dice ancora il padre Capucino non conta l'oggetto conta la devozione questo lo dice il padre Capucino quando si accinge a compiere questo miracolo con una corona di spine viene ovviamente obiettato dalla ragazza che subirà il miracolo viene avanzata l'obiezione ma questa non è una reliquia una reliquia con tutti i crismi e appunto il padre Capucino dice non conta l'oggetto conta la devozione e la devozione è a rivelare ciò che è sacro in ogni cosa quando c'è devozione splende anche un dente di cane come a dire ciascuno di noi poi è proprietario del proprio destino può cercare di rompere questa routine con speranza di poter star meglio ma è molto singolare che durante le presentazioni dei libri o in altre occasioni vengano scelte delle parti di quello che io ho scritto che in realtà non sono mie che evidentemente sono molto belle perché non sono mie mi è successo con un libro che si chiamava 19 che era un libro molto semplice di giri fatti con una linea su una linea di trama romana che è la più lunga di tutte che appunto è il numero 19 e più di una persona mi disse ah mi è piaciuto il libro o non mi è piaciuto so comunque un giudizio sul libro ma c'è quella pagina meravigliosa in cui tu dici il problema non è che noi siamo stati cacciati dal paradiso terrestre ma perché non riusciamo a farvi ritorno e me l'hanno detto tipo 3, 4, 5 persone infatti quello è Kafka non sono io il che da una parte è un po' avvilente perché dici guarda sei andato a pescare proprio la cosa che in realtà io ho rubato però invece anche confortante almeno per me che faccio questo mestiere perché allora vuol dire che la letteratura è un fatto oggettivo che ci sono delle cose oggettivamente meravigliose e Kafka è uno scrittore oggettivamente mille volte più grande di me e quindi rubare da Kafka è giusto se riesci attraverso questo saccheggio a farlo ancora circolare anche se poi qualcuno penserà che è farina del tuo sacco ma nella letteratura posso dirlo è l'unico regno è l'unico dominio in cui credo nel comunismo cioè il comunismo che ha fallito quasi ovunque o anzi ovunque in maniera catastrofica se c'è un mondo in cui il comunismo non soltanto è lecito è giusto ma è il vero regime della letteratura e che una volta che tu le cose le hai scritte non sono tue e quindi tutti infatti la lettura fondamentalmente è un saccheggio di qualcosa che ha fatto qualcun altro io sono sono e sono stato un grande lettore mille volte di più di quanto sono un grande scrittore e tu adesso hai citato guarda un po' un'altra volta lo stesso fenomeno perché quando c'è devozione splende anche un dente di cane è un detto zen quindi padre alighiero l'ha rubato pur essendo un sacerdote cattolico ha rubato un'altra dedizione religiosa e io me l'ero segnata da qualche parte questa frase che mi aveva colpito fra l'altro un detto zen che è riportato in un libro di Lawrence Darrell come exerg del suo primo libro che si chiama il libro nero the black book quindi pensate quanti giri ha fatto questa frase per finire per essere citato da te stasera come opera di albinati quando io ne sono diciamo così non sei gradi di separazione siamo arrivati ormai a 50 gradi di separazione però quello che vuole dire lo dice padre alghiero lo dico io è che il gesto qualsiasi gesto diventa forse miracoloso sacro o anche semplicemente significativo quando è accompagnato da devozione non da fede da devozione che è qualcosa credo di leggermente diverso si può apparecchiare una tavola con devozione si può accendere una candela con devozione si può guidare un un triciclo con devozione cioè è quella forma di attenzione a ciò che si fa come se questa cosa che si fa non fosse routine ma avesse invece un peso una forza c'era una scena di un film non bello di Tarkovsky che si chiamava Nostalgia il film italiano ma c'era una scena significativa di questo tentativo di raggiungere una devozione in un gesto peraltro assurdo che era appunto di portare una candela accesa attraverso una vasca e riuscire a mantenerla accesa fino alla fine fino a essere arrivati all'altra parte di questa sorta di piscina termale allora quindi non è Padre Alighiero che è un santo e quindi fa il miracolo ma è la devozione che accompagna questo gesto che fa risplendere ciò che in questo caso una corona di spine fatta con dei rovi di campo raccolti così che potrà forse sanare la piaga che era stata aperta questo adesso forse sto andando sto divagando troppo un'idea contenuta in questo racconto molto importante per cui sarà Padre Alighiero a dover fare questa cerimonia questo rituale mi viene da un mito bellissimo il cui significato è talmente profondo che ancora non sono riuscito veramente a interpretarlo che è il mito di Telefo Telefo è il figlio di Ercole il quale combattendo contro i greci nella guerra di Troia viene ferito dalla lancia di Achille alla coscia con una ferita che non rimargina mai cioè tutti i tentativi di curarla non portano a nulla un po' come la piaga che affligge la ragazza di quel racconto ebbene non so se un oracolo non ricordo più chi rivela l'unica soluzione è un'unica terapia possibile e che questa ferita verrà rimarginata solo se sarà toccata dalla stessa lancia che ha inferto la ferita cioè praticamente a curare può essere soltanto colui che prima ha causato il dolore cioè a far cessare il dolore può essere quello che in origine l'ha provocato allora certe volte questi schemi arcaici questo mito ripeto misterioso perché cosa ci vuole dire veramente che soltanto il colpevole di un dolore poi potrà essere colui che fa sparire il dolore lo può sanare mi ha servito un po' da base del racconto quindi anche qui una struttura precedente poi viene riattualizzata viene recuperata viene riscritta e in effetti penso che non si faccia altro che riscrivere cose che già penso per esempio una storia d'amore anzi c'era un racconto mi viene in mente di Landolfi molto divertente di uno che di una ragazza innamorata che soffre per amore poi Landolfi mentre lo sta scrivendo ha già scritto un paio di pagine e dice basta non vado avanti ancora una volta una sofferenza amorosa ma sono duemila anni e quindi gli parte gli parte come annoiato o disperato sul senso ma non riesco mai inventare una cosa nuova nel suo caso era un racconto quasi comico satirico però è vero che quando scrivi tu ti accorgi di ripetere e ripetere e ripetere poi il padre Cappuccino che compie questo miracolo e rimedia anche se dicendo miracolo hai già rovinato per metà l'effetto del racconto ormai mi sembra che non sia irrimediabile questo mi spingerei quasi a svelare l'altra metà ma in realtà cerco di non svelarla ci mancherebbe altro e l'origine di questo di questo male è un'origine che in realtà poi quando lo si scopre è un atto bellissimo diciamo indirizza verso la soluzione di molte solitudini attraverso l'amore e gli affetti questo accade nel primo racconto in cui il ragazzo problematico nonostante abbia un atteggiamento respingente nei confronti del mondo delle persone che gli sono vicine riesce comunque ad attrarre su di sé degli affetti e in qualche modo a mantenere anche un rapporto amoroso con la persona che gli procura poi la droga che lui assume in carcere che gli consente di sopravvivere in questo carcere gli consente di affrontare il disagio di questo carcere l'atto da cui nasce questo male che poi viene in qualche modo devo stare attento a quello che dirai perché devo fermarti prima che lo spoileri completamente però no 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 non voglio spererlo non è un giallo però in effetti il secondo racconto almeno ha un finale sorprendentemente bello insomma sì per essere lasciamo diciamo la sorpresa ma sia il finale del secondo racconto sia tutto quello a chi ha legge poi nel primo e anche nel terzo sembrano quasi suggerire che l'affetto e l'amore possano risolvere in qualche modo queste situazioni la critica le definisce e si concentra molto sulla solitudine io credo che siano situazioni di malessere che vanno anche al di là della solitudine che viene affrontata sia con le routine sia con questa ricerca quasi ossessiva soprattutto nel terzo racconto di stabilità sono questo questo irrompere degli affetti e dell'amore cambia scompagina un po' tutto è una soluzione? se fossi uno psicanalista alla moda direi di sì ma invece sono un letterato quindi sono molto legato a un'idea di amore come struggimento come un consumarsi quindi non so se l'amore sia la soluzione può essere anche la perdizione la passione l'innamorato è colui che perde il senno quindi non so non consiglierei insomma come ricetta l'amore visto che poi si soffre anche parecchio ci si consuma ci si strugge a me piace proprio il termine struggimento che mi fa venire in mente proprio l'idea della candela che si scioglie un po' alla volta la mente dell'innamorato è devastata dal sentimento sicuramente l'affetto potrebbe essere la soluzione poi c'è qualcosa di meno catastrofico della passione amorosa visto che parlavo di Anna Carienina ecco non mi sembra che lì l'amore abbia prodotto altro che guai peraltro il non amore del matrimonio di Anna Carienina prima di incontrare Vronsky era sterile quindi è come se dovesse scegliere tra questa sterile stabilità e invece la tempesta del sentimento c'è una non mi ricordo chi sia l'autore una ballata medievale che dice amor m'accolto e di buon loco tolto e messo al tempestare cioè io stavo bene come stavo e poi l'amore mi ha preso e mi ha buttato in mezzo la tempesta quindi peraltro l'amore è quella cosa che come dicono sempre i poeti devi aver vissuto per poter comprendere nell'altro quando lo vedi in preda alla stessa passione è interessante come il poeta amoroso chieda complicità al suo lettore sempre dice tu mi capisci mon frère cioè hai vissuto anche te e del resto se non hai vissuto quello di cui io sto per parlarti è inutile che te ne parlo perché comprendere non la pochi non la prova in questi racconti l'ultimo il terzo hai detto giustamente tu è invece di un uomo di una certa età che ha vissuto la vita ha amato ha conosciuto ha prodotto ha guadagnato che di tutto questo invece è stanco vuole uscire è lui che vuole mentre negli altri due racconti i protagonisti vengono spitti fuori dal mondo il ragazzo detenuto la ragazza malata il prete che subisce questa stimmate sociale del sospetto che piomba su di lui nell'ultimo caso invece è lui che vuole andarsene dal mondo perché questo tema della solitudine spesso viene identificato solo come un problema una sofferenza il che senz'altro è però è anche vero che la solitudine è una legittima aspirazione dell'individuo cioè noi abbiamo non soltanto il diritto ma anche la necessità della solitudine del silenzio di staccare da questa permanente pressione del mondo intorno a noi per mondo intendiamo gli altri abbiamo bisogno degli altri abbiamo bisogno che gli altri abbiano bisogno di noi ma abbiamo anche bisogno che gli altri se ne stiano ben lontani da noi o noi dagli altri c'è questo bellissimo titolo del romanzo di Thomas Hardy via dalla pazza folla e beh il desiderio di andarsene dalla pazza folla è forte legittimo e questo personaggio arriva a un momento della sua vita che dice adesso però basta non voglio più avere a che fare con nessuno ho il mio cane un vecchio cane spelacchiato lui mi basta e mi avanza non voglio più che questo voglio appunto come quello l'ho scritto io soltanto io non è preso da nessun altro credo voglio bere del buon vino guardare questo meraviglioso panorama che ho fuori dalla finestra perché lui vive in questa casa sul canale della Giudecca passeggiare col mio cane e stare finalmente in pace però questa stabilità che è una forma di purezza a cui uno può aspirare perché così non devi più scendere a compromessi con nessuno perché la vita sociale è fatta di compromessi e da questo punto di vista l'amore particolarmente compromissorio perché tu ti esponi con l'altro mi colpisce molto di recente leggere soprattutto di personaggi famosi pubblici che dicono basta adesso sono quasi spesso quasi sempre delle donne ma anche degli uomini che dicono ce l'hai un partner no perché io adesso voglio stare con me stessa voglio essere serena voglio ed è in effetti una cosa legittima dire adesso non voglio più tormentarmi per qualcuno o per è quello che pensa anche questo questo signore qui io voglio voglio chiuderla con questa continua battaglia con il prossimo per il prossimo il mio cane è l'unico che non mi chiede nulla e però la contraddizione di cui hai parlato te all'inizio è proprio questa siccome lui ogni anno dava questa bellissima grande festa in questa bella casa dove è incerto se anche quest'anno che ha deciso di uscire dal mondo la farà o non la farà e se la farà se sarà una festa di addio cioè l'ultima volta che vedo tutti e poi arrivederci me ne vado oppure al contrario se sarà il momento in cui rientrerà nel mondo e qui lo spoiler me lo faccio da solo perché la farà questa festa e la festa sarà meravigliosa però non so questo vorrei condividerla veramente con voi quasi fare un test il problema delle feste è che chi indice la festa mentre quelli che gli ospiti godono se viene bene il padrone di casa anche se la festa è meravigliosa è colui che come dire è ossessionato soltanto da problemi pratici in questo caso la sua ossessione di questo personaggio è il ghiaccio che ci sia abbastanza ghiaccio perché una festa a metà luglio con i cocktail eccetera dove il ghiaccio finisca verrà distrutta quindi lui vive per tutto l'arco di questa festa questa paura che a un certo punto manchi il ghiaccio e qui c'è l'invenzione narrativa chi glielo deve portare il ghiaccio un infido inglese che si chiama Wheaton il quale gli ha dato in custodia alcuni immobili vecchi immobili di famiglia che lui gentilmente il protagonista ha ospitato al pianoterro di casa sua è arrivata l'acqua alta a Venezia i mobili si sono orrendi mobili dei canterani mezzi parlati sono marciti e Wheaton gli ha fatto causa quindi questo Wheaton è contemporaneamente un buon amico ma anche il principale avversario in quel momento quindi il protagonista è terrorizzato dall'idea che Wheaton si vendichi di questi mobili non portando il ghiaccio e quindi facendo fallire la festa allora posso dire che la festa ci sarà e che saranno tutti felicissimi e sarà tutto meraviglioso ma che cosa ne sarà del protagonista non viene detto è impossibile infatti svelare il finale dell'ultimo devo dire che ho interpretato in modo molto diverso l'impegno del protagonista nel preparare la festa anzi mi era sembrato che fosse un escamotaggio utilizzato dal protagonista un po' per non pensare questo protagonista è un compositore molto affermato i suoi brani vengono ascoltati negli aeroporti internazionali molto molto affermato che quando compone non ha timore di essere interrotto da telefonate più o meno moleste ma quando prepara le crostate per la festa non tollera di essere interrotto da nessuna telefonata a sottolineare quanto sia importante siano importanti i preparativi e il coinvolgimento in questi preparativi quindi l'avevo immaginato un po' come un escamotage per mettersi in una sorta di sospensione preparare la festa in parte lo dici preparare la festa non è come partecipare è quello che ci hai appena detto una sorta di sospensione per non pensare in qualche modo alla sua condizione e quindi trovare una pausa una pausa dire una pausa dal dolore mi sembra questo è giusto però io penso che quelli che amano cucinare lo facciano per quello adesso non so anche qui dovrebbe fare un'inchiesta ma uno quando si mette a preparare un piatto molto elaborato è una specie di mantra o di esercizio spirituale che fa e lui probabilmente lo fa infatti lui vuole preparare tutto il cibo che verrà mangiato con le sue mani perché è quella anche in questo caso quella devozione di cui si parlava prima però poi sai in verità io non lo so che cosa voglio dire a questo racconto quindi se tu lo vedi in quel senso non posso essere io a smentire e dire no non hai capito lui lo fa per quell'altra ragione mi piaceva questa immagine di questa anzi in realtà il racconto si doveva chiamare all'inizio l'uomo che dormì con le sue torte perché siccome in questa casa molto calda l'unica stanza con l'aria condizionata è la camera da letto lui dopo aver preparato tutte queste cose da mangiare passerà l'ultima notte prima della festa circondato da tutto il cibo quindi da queste da queste bellissime pies come si può dire di crostate e salate diciamo torte salate ecco questo per dire che tutta questa faccenda della preparazione del cibo a me veniva in mente solo perché mi piaceva l'idea di un uomo che dormisse poi in una stanza piena di cibo che era l'unico modo per conservarla fino al giorno dopo sì un uomo che cerca questa assoluta stabilità che cerca questa chiamiamola via di fuga nella preparare il cibo ma che poi questo lo dico senza svelare svelare finali senza spoilerare ulteriormente che poi viene messo in crisi da un impulso che prova senza come dire un impulso a baciare una persona non lo fa ma questo lo mette abbastanza in crisi non riesce né a fuggire con la preparazione del cibo né a coltivare questa stabilità alla fine il racconto come si chiama perché non me lo ricordo più il racconto è Ublietto però si era chiamato anche il bacio per un certo periodo infatti perché è il momento Ublietto è un titolo mi sembra molto coerente con il racconto perché Ublietto sono andato a vederla a vedere il significato dopo aver letto il racconto è la prigione medievale il cui unico accesso è dall'alto e la si chiamava Ublietto perché ci si voleva dimenticare dei prigionieri racchiusi così come il protagonista vorrebbe farsi dimenticare allora questo è interessante perché poteva essere anche il titolo del libro Ublietto e abbiamo avuto una lunga discussione con l'editore sul fatto che a me piaceva molto questa parola Ublietto una parola leggera con un significato terrificante nascosto io dicevo ma se la gente dicevo ma non si capisce perché nessuno sa che cosa sia e neanche io prima di scoprirlo tre o quattro anni fa lo sapevo dico bene così se l'andranno a cercare sul vocabolario come hai fatto tu perché secondo me un certo grado di incomprensibilità nelle cose è stimolante perché ti costringe a se ti interessa a approfondire a cercare quindi una grande malattia della letteratura ancora più dell'arte contemporanea è che invece sia tutto perfettamente comprensibile non perché uno debba per forza fare degli sforzi però c'è anche un piacere io credo almeno io lo provo nel una zona d'ombra un margine di sconosciuto che poi non è necessario che uno lo approfondisca per cui per me andava anche bene che uno non sapesse cos'è un oubliette però il suono oubliette dove questa radice francese così forte di oubliette che secondo me in italiano comunque arriva lo stesso cioè dimenticarsi andava bene così però poi alla fine leggendo un libro di Anna Arendt ho trovato l'espressione uscire dal mondo e ho rubato quella ho detto va bene mi piaceva di più oubliette e allora ecco come è andata ora mi ricordo l'uomo che dormì con le sue torte che era diventato il bacio il bacio è stato cancellato ed è diventato quello oubliette perché mi scocciava a buttarlo un titolo così bello e allora perché lui vuole costruirsi la sua oubliette cioè lui vuole essere dimenticato di solito chi finiva dentro l'oubliette ci veniva ficcato dentro contro la sua volontà in questo caso lui se la vuole costruire questa prigione perché un dato molto interessante molto presente soprattutto nella letteratura italiana credo è che molti nostri scrittori di primissimo cioè molti nostri geni sono scrittori che sono stati incarcerati esiliati messi in manicomio e potrei fare i nomi ma è inutile farli ma molti di quelli che invece avrebbero avuto una vita assolutamente diciamo di soddisfazioni mondane e non venivano incarcerati da nessuno poi si sono costruiti una loro prigione magari dorata e cioè quella dell'isolamento penso che l'eseplare più classico di questa oscillazione tra mondo e solitudine sia Petrarca cioè un uomo mondano a tutti gli effetti che ha vissuto la vita fino in fondo che però aveva bisogno di questa di questo luogo diciamo così eremitico dove essere solo et pensoso e perché questo sul tema della solitudine è una cosa che ho pensato molto spesso negli ultimi tempi e cioè che questa definizione dell'uomo definizione filosofica classica dell'uomo come animale sociale è vera ma è incompleta perché è un animale sociale l'uomo che ha bisogno anche di stare da solo e penso che questa necessità siano due poli che siano entrambi molto forti abbiamo desiderio bisogno necessità anche un retaggio biologico perché stare con gli altri nelle comunità primitive assicura una maggiore probabilità di sopravvivenza la persona sola perisce la persona che vive con un gruppo sopravvive o ha più probabilità di farlo però al tempo stesso sia così forte questo desiderio di solitudine questa esigenza e se non è solitudine almeno di una cosa che è forse la cosa che a me diciamo di cui io sento più il bisogno e più la mancanza è quella del silenzio vorrei approfittare ancora di qualche minuto per condividere con te con tutti noi un'ulteriore sorpresa che ci riserva il secondo racconto ed è un'interpretazione decisamente anche in questo caso sorprendente del miracolo di Lazzaro quando dici il miracolo di Lazzaro non è Lazzaro che risorge ma è Lazzaro che era vivo prima di morire che è una cosa bellissima perché ci offre questo lo dice padre Alighiero eh guardiamo a Cesare quel che è di Cesare ma in questa predica così affascinante che appunto tipica di quest'uomo così amato dai suoi parrocchiani lui prova a far capire che la miracolosità non è soltanto dell'evento straordinario come la resurrezione di Lazzaro ma è già invece nella vita ordinaria quindi respirare quindi respirare camminare essere in vita è qualcosa che noi diamo per scontato e quindi consideriamo invece straordinario il fatto che Lazzaro poi risorga ma in realtà anche il fatto di essere stato vivo era miracoloso ogni singolo animale insetto pianta lo è e dunque dovremmo se vogliamo essere grati per il semplice fatto di ciò che ci viene dato come quotidianamente naturalmente è un tipo di saggezza che non è tanto facile da praticare quando soffri quando sei in difficoltà però in effetti lo capisci anche quando ti ammali che un organo smette di funzionare ma pensarci bene era assolutamente straordinario che funzionassero tutti gli altri fino al momento in cui si è ammalato quello io molte volte quando ho dei problemi fisici penso è strano che ancora non sia andato in malora tutto visto che questo visto che la mia macchina si rompe continuamente invece questo corpo almeno nel mio caso continua con molte defaianze a funzionare allora è proprio questo aspetto quasi mistico devo dire che io provo molto forte del soffermarsi su alcuni dettagli della realtà che non dico possono rimediare alle grandi catastrofi però se uno riesce a focalizzare il fatto che in questo momento comunque il tuo pancreas funziona perché se non funziona sono molti guai ecco uno dovrebbe dire grazie che funzioni ancora c'era una pagina molto bella di Peter Hunt che mi colpiva molto mistica effettivamente dove dice anche in una grande tormenta una grande tempesta di neve quindi un evento spaventoso e comunque che incute timore potresti notare che in una biforcazione di un ramo su un albero la neve come si posa delicatamente allora in effetti quando si riesce ad attivare soprattutto nei periodi difficili nei periodi duri delle emergenze questa capacità di almeno salvare dei dettagli che non salvano l'insieme non riscattano l'insieme per esempio nel mio lungo lavoro in galera posso dire che in una condizione mediamente molto negativa una questo nel carcere di Rebibbia a Roma una cosa salvifica che fino ad allora io non avevo mai considerato come una grande virtù è l'umorismo cioè io ho notato che in certe giornate plumbe se c'era un l'umorismo dava illuminava magari per pochi istanti quindi un lampo non era la luce non era però era un lampo che rendeva tollerabile quello che altrimenti sarebbe stato intollerabile e se stiamo finendo voglio farne un esempio però se stiamo finendo perché si potremmo chiudere in bellezza con questo esempio oppure lo faccio lo stesso poi magari continuiamo ricordo una volta che stavo facendo fare un esercizio grammaticale ai miei studenti detenuti e spiegavo la differenza che c'era tra l'uso letterale del linguaggio e l'uso figurato e avevo fatto un po' di esempi dell'uso metaforico con un sacco di guai non è veramente un sacco per dire che sono molti quella ragazza è una bomba ma non vuol dire che esplode avevo spiegato abbastanza bene con degli esempi e ho chiesto ai miei studenti di fare loro degli esempi di una parola o di un'espressione che poteva essere usata in un senso o nell'altro e silenzio non veniva in mente niente a nessuno finché uno della banda della Magliana per l'altro dice professore ho una frase dove ci stanno tutte e due insieme e dico ma fantastico di navecchia che poi ho scoperto che è una vecchia battuta ma non la conoscevo navecchia va a dar macellaio ce l'hai del fegato? sì allora leccami tutta e io ci ho messo un po' come vedo anche voi in questo momento state ragionando però ho detto ma è geniale nel senso che nel senso che sei riuscito in una botta sola infatti la metterei nelle grammatiche se non fosse sconcia però sarebbe perfetta per far capire come fegato può voler dire appunto quello che compri dal macellaio oppure il coraggio allora quella cosa lì mi ha in quel caso ha consolato me come insegnante perché ho detto ecco la mia missione è compiuta qua dentro perché attraverso questa battuta del bandito della Magliana si è riattivata una possibilità è fra l'altro una grande legge della lingua e cioè che noi possiamo usare la lingua con significati molto diversi anche usando sempre le stesse parole quindi diciamo quel poco di lampo di stacco rispetto alla meschinità della vita detenuta talvolta viene garantito anche da un piccolo battuta umoristica o da un piccolo gesto di generosità o da un sorriso o da una lacrima insomma da episodi di sparsa umanità dove la vitalità che sembra essere ridotta al lumicino perché il problema della galera anche non della galera ma della galera di più è appunto questo lento spegnimento esistenziale che è fisico psichico e sentimentale per cui privati di ogni stimolo gli umani si 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 estinguono un po' alla volta ma io concluderei oltre che ringraziando Leonardo Albinati per quello che ci ha detto invitando chi non l'avesse fatto a leggere il romanzo a leggere non solo per tutti i motivi che sono già emersi in questa in questo colloquio ma anche perché le parole che usa Albinati per descrivere i momenti piccoli momenti di amore intorno sull'argomento che mi ha colpito forse più di tanti di tutti gli altri le parole che usa Albinati per descrivere questi momenti d'amore che colpiscono e rendono vivi alcuni personaggi rendono restituiscono la vita ad alcuni personaggi sono davvero straordinariamente superative ed efficaci nel toccare le corde giuste le mie le ha toccate molto bene auspico naturalmente che possa toccare anche le vostre e dare trasformare quelle situazioni apparentemente o non immediatamente gioiose in situazioni invece in cui può esserci questo trionfo della vita grazie grazie a tutti voi